Salve, sono Andrea Benati, videomaker. Tra le mie passioni c'è anche quella dell'Expo Cinofile. La settimana scorsa ho pubblicato la prima parte del raduno CERN, club italiano Razze Nordiche, nello specifico sezione SERAS, sezione Razza Samoido, che si sono svolte nel FIER di Bologna il 17 febbraio. Chi non avesse visto la prima parte, vi lascio il link qua sopra. Oggi vi presento la seconda parte. Grazie. Iscrivetevi al mio canale, attivate la campanellina e lasciate un mi piace. Buona visione. Sigla. Iscrivetevi al mio canale. Iscrivetevi al mio canale. Iscrivetevi al mio canale. Iscrivetevi al mio canale. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.